Sono preoccupato dal fatto che applaudite prima ancora di avermi sentito, ma va bene. Suppongo che poi le slide siano fornite tutte ai partecipanti, giusto? Assolutamente, quindi non c'è bisogno immagino di prendere screenshot con le macchine fotografiche e cose del genere. Può essere una cosa molto più easy e molto più tranquilla. Python e MySQL. Python e MySQL sono due prodotti che lavorano bene insieme. E aggiungo, la presentazione di oggi ovviamente è più incentrata sulla seconda parte, MySQL, perché è il mio lavoro, sono il tecnico di prevendita per l'Italia su MySQL, e quindi seguo le presentazioni, seguo quello che è l'incontro con i clienti, le domande tecniche e quant'altro. Anticipo che se ci sono domande particolari che non riusciamo a risolvere durante le tempistiche, che sono giustamente limitate, abbiamo un banchetto qua fuori dove potete venire a trovarci, e venire a chiedere, domandare e quant'altro. Quello che viene presentato qua in questa presentazione sono ovviamente funzionalità e elementi tecnici. Non c'è un elemento contrattuale, un vincolo o quant'altro. Facciamo una presentazione orientata al tecnico. Gli argomenti sono tanti perché sono numerose le cose di cui si può parlare, e li ho categorizzati in questi quattro elementi. Il primo è MySQL Server, l'ho messo perché c'è molto interesse, molta attenzione a MySQL, Oracle, c'è, non c'è. Lo vedo dalle domande che mi vengono fatte al banchetto qui presenti, e anche alle banchetti che sono presenti negli altri stand. Poi parleremo delle utilities, che secondo me sono un argomento estremamente interessante, soprattutto per chi ha esperienza di programmazione, per chi conosce Python, eccetera. Poi facciamo una panoramica di Fabric e due parole sull'estensione di MySQL. Per quanto riguarda la parte server di MySQL, stiamo parlando di un database che è ormai il riferimento in ambiente web. Non sto dicendo che è l'unico database, non sto dicendo che è il database migliore del mondo, o quant'altro, questo lo lascio dire o non dire ad altri. Quello che dico è, ha raggiunto un livello di conoscenza, di installazione e quant'altro, tale per cui se io sviluppo un'applicazione nuova, che sia per il web, che sia per il mio uso personale, o quant'altro, devo fare una start-up, il primo database che mi viene in mente, poi magari ne scelgo altri, ma il primo che mi viene in mente è MySQL. Ormai esiste da più di vent'anni. Questi sono gli anniversari che sono stati compiuti l'anno scorso, vent'anni l'anno scorso, quindi ormai ventuno, di vita. Dieci anni che il motore transazionale appartiene a Oracle. Tutti dicevano, quando Oracle ha comprato MySQL, avrebbe chiuso. Già da cinque anni allora possedeva il motore, il cuore transazionale di MySQL e aveva vinto un premio per il miglior partner di MySQL AB. Da cinque anni è in Oracle e da cinque anni abbiamo un aumento di quello che sono le persone, un aumento delle funzionalità. Nel 2010 c'erano una serie di caratteristiche che permettevano di monitorare, controllare, far funzionare il database. Ad oggi c'è stato una serie di rilasci enormi, tali per cui non riesco neanche a metterli tutti. And more. Con una roadmap che va anche oltre e che mi fa dire, adesso abbiamo funzionalità che sono in esame della community e che possono essere valutate da voi e dai clienti, da chi lo utilizza per darci il feedback e permetterci di svilupparlo al meglio. Un po' di nomi, group replication, un nuovo data dictionary, MySQL Shell. Non sono cose rilasciate chissà quando. MySQL Shell, ne parlo nella presentazione di stasera, è stata rilasciata tre giorni fa. E per gli sviluppatori Python è qualcosa di interessantissimo, perché stiamo parlando, non è argomento di questa mattina, di usare MySQL come un database document store, JSON, operazioni crude, e una serie di cose innovative, estremamente interessanti e che stanno veramente riscuotendo un notevole successo. A duboplier, eccetera, eccetera. A livello di community c'è moltissima attenzione, proprio legata al fatto che i sorgenti sono tutti pubblicati, sono disponibili, andate su Gtab, andate a scaricarveli, ci sono i repository online per tutte le distribuzioni, documentazione, andate sul sito e vi scaricate da quello che è la programmazione a quello che è il database, a quelle che sono le utilities, eccetera, eccetera. C'è la wall of fame di quelli che contribuiscono, vengono sponsorizzati gli eventi anche della community come questo, eccetera, eccetera. In più, usato seriamente dalle aziende, sia in ambito enterprise, sia dentro dei device, non tutti sanno che ci sono dei device molto famosi che utilizzano MySQL dentro in maniera mascherata, per non parlare dell'ambiente cloud, dove tutti i fornitori di un qualsiasi ambiente cloud usano, o meglio che usano, offrono una possibilità di sfruttare, di utilizzare proprio questo database. Ecco che quindi è un database importante da conoscere, a prescindere dal fatto che poi lo uso veramente, perché nella carriera lavorativa, prima o poi mi toccherà andare a averci a che fare in qualche modo. Per gestirlo, per amministrarlo, per andarlo a sfruttare al meglio, ci sono una serie di strumenti che possono essere sfruttati. Aggiungiamo, tra quelli meno conosciuti, le MySQL Utilities. Le MySQL Utilities sono degli strumenti che aiutano ad automatizzare quello che è la gestione, il controllo, la manutenzione, la vita del mio database. La cosa interessante è che pochi sanno, pochi sanno che esistono, ma pochi sanno anche che sono scritti in un linguaggio che probabilmente conoscete, che è Python. Sono scritti in Python. E sono addirittura estendibili. Poi vediamo alcune note anche su questa cosa. Sono documentate, andate sul sito web, vi scaricate il manualetto, ci sono esempi di utilizzo, esempi di estensione e quant'altro. Sono arrivati alla versione 1.5, abbiamo rilasciato in versione beta la 1.6, continuano ad essere estesi, sviluppati e quant'altro. Ma di cosa si occupano queste utility nel concreto? Anzitutto, la replica. Uno dei cavalli di battaglia di MySQL è dato dalla possibilità di avere delle architetture, anche complesse, che mi permettono di creare un ambiente architetturalmente orientato all'alta disponibilità, piuttosto che alla scalabilità tra letture e scritture, eccetera, eccetera. Le MySQL Utilities vanno nell'ottica di aiutare nella manutenzione di questi strumenti. Quindi, un utility, l'ho messa come prima perché è una delle più richieste, failover, il famoso switch tra il master e lo slave, che mi permette di fare un ambiente di HA, ma altre che consentono di andare a impostare la replica, piuttosto che il controllo, eccetera, eccetera. La possibilità di andare a fare dei controlli di quello che è il mio database in termini di andare a vedere le informazioni di audit, piuttosto che andare a fare il confronto tra due database. Quali sono le differenze tra due database? Una nota interessante è data dalla prima Utilities che ho messo in questa slide. Lo so, è una slide piena di parole, ma poi avete le copie. Adesso focalizziamoci sui concetti di base. MySQL Audit Admin. Il plugin di Audit, dopo dico due parole anche su questo, è un plugin commerciale. Messe quelle, disponibile in versione Community, avete tutte le funzionalità che vi servono, e in versione commerciale, dove vengono messe delle estensioni che sono orientate alle aziende. Un esempio facilissimo, l'Audit. Se io mi sviluppo la mia applicazione per fare i fatti miei, non devo andare ad aderire a una compliance per i dati sensibili del garante della privacy. Se sono un'azienda che ci fa questo business e ci guadagno, è un altro discorso. Le Utilities vanno a servire sia l'ambiente Community, tutte le repliche sono tutte liberamente utilizzabili, senza nessun, nella versione Community, non c'è nient'altro che Community, sia utenti che lo utilizzano commercialmente. MySQL Audit Admin. Le Utility in se stesse sono Community. Community, quindi tutto quello che vedrete qua in questa parte e anche in quella successiva quando parleremo di Fabric, è tutto open source, liberamente utilizzabile, perfino nella vostra azienda, se dovete utilizzarlo commercialmente, non dovete dare un centesimo. Poi, volete le estensioni, volete il supporto, è un altro discorso, ma questo è libero. Utility, che possono servire anche per creare l'ambiente, abbiamo visto Utility di controllo, Utility per la replica, Utility per fare export, import, avere informazioni, quanto è il disco utilizzato, piuttosto che come sono le informazioni, come stanno gli miei indici, per fare una verifica dello stato del mio database, ma andiamo a vederne qualcuna più nel dettaglio, perché detto così, è ancora un po' troppo teorico e fumoso. Abbiamo, anzitutto, alcune Utilities che volevo presentare, che sono orientate alla replica. Presento queste perché, come vi dicevo prima, sono probabilmente tra le più utilizzate, sono più usate, soprattutto perché chi sfrutta MySQL si trova presto ad avere un'esigenza di alta disponibilità. E l'alta disponibilità, come primo livello di complessità, ce l'hai con la replica. Master, slave. Un master che contiene tutte le modifiche, uno slave o più slave, che vanno a ripetere quello che è stato fatto. Questo ripetere viene fatto attraverso lo strumento chiamato binary log. Che altro non è che un insieme di file che contengono tutte le modifiche che sono intervenute nel database. Un update, una insert, una delete, tutto quello che viene modificato lì è tracciato. me lo passo ai miei slave e loro non fanno altro che ripetere l'operazione. Semplicissimo, ma quando vado a configurarlo c'è chi si trova un attimino a disagio e dice ma chissà, è facilissimo, tant'è che è una riga di comando, sono poche le variabili, ma comunque non sempre le persone si trovano a loro agio. Ecco che quindi sono state sviluppate delle utilities che mi permettono di impostare la replica, farne il controllo, andare a visualizzare lo stato e per fare perfino il failover. Questa è la logica delle utilities. Aiutare nell'operatività reale, vera, di tutti i giorni. A livello, per esempio, di configurazione della replica io avrò un master, avrò un nuovo slave, devo impostarla, mi serve un comandino che dice creami la replica tra questo master e questo slave. Io non voglio ricordarmi o non sono sicuro della riga di comando change, master, to, eccetera, eccetera. Voglio una cosa che mi fa scrivere MySQL Replicate. Prima nota. MySQL Replicate. Ricordate la lista che ho fatto prima di tutte le utilities? Quella lista vi fa dar riferimento di com'è il comando. Poi io soffro della sindrome da tab-tab. Conoscete la sindrome da tab-tab? MySQL, tab-tab-tab-tab, per vedere poi cosa viene mostrato come comando disponibile. MySQL Replicate, master, slave, e mi va a fare le configurazioni. Nelle slide che vedete qua ho messo ovviamente pochi switch, ma se fate l'help di questi utilities troverete numerosissime opzioni e un'enorme flessibilità. Si collega al master, si collega allo slave, vi ha configurato un comando e avete impostato la vostra replica. Bello! Ma voglio vedere come sta la mia replica. Benissimo! MySQL Replication Show e mi mostra a livello quasi grafico, semigrafico, come è l'architettura del mio ambiente. MySQL Replication Show fa mi vedere la topologia non solo. Se gli fornite lo switch con ovviamente un utente con le autorizzazioni sufficienti, sapete che tutti i database hanno un discorso di autorizzazione, mi scopre anche gli slave. Io gli do il master, e lui mi fa vedere tutta la topologia e se fosse una replica circolare me la mostrerebbe. Mi fa vedere questa architettura dove vedo ho un localhost sulla 3306, ne ho impostato un altro sulla 3307, 3308, che a sua volta il 3308 è un master per un localhost 3313. Facilissimo da leggere perché a fianco vedete che c'ho master, slave. Una visualizzazione immediata di cosa ho a disposizione, cosa ho creato, se è giusto o sbagliato. Sì, va bene, ma se non funziona posso andare a vedere com'è lo stato del mio database, posso fare dei controlli. Controlli, MySQL, Replication, Check, controllami come ho configurato, controllami gli ambienti e in maniera abbastanza semplice e immediata vammi a controllare se ci sono problemi sui binlog, se l'utente di replica è configurato e ha le permission grant parlando database corrette, alla fine dice ok, passato, passato, fail, passato, passato, fail, dove fail? Aspetta, andiamo a vedere perché, con una descrizione. Una volta che io ho il mio ambiente di replica posso andare a configurare un qualcosa di ancora più complesso e quindi avere un'architettura dove ho un master degli slave, gestire switchover, il comando che fa un po' da coltellino svizzero per tutte queste configurazioni è il comando MySQL Replication Admin che fa proprio da amministrazione quindi MySQL Replication Admin può essere utilizzato in maniera più grande rispetto alle funzionalità specialistiche che ho indicato prima per andare con un solo comando andare a impostare la replica fare lo switchover ho un master ho uno slave devo fare amministrazione inverti la replica no aspetta cos'è che devo fare per invertire un comando MySQL Replication Admin switchover eh ma io ho un master e cinque slave gli dici qual è il nuovo master e ti rifà tutti gli indirezzamenti al nuovo master però semplice molto più semplice che andare io a fare tutto a riga di comando questo per quanto riguarda manualità ma abbiamo anche dei meccanismi più automatici a livello di automatismo esiste il MySQL failover il MySQL failover cosa fa? una cosa molto semplice prende il master gli dico questo è il master questi sono gli slave li scopre anche da solo se voglio gli dico solo il master e ci pensa lui scoprire gli slave ma io voglio un ambiente un po' più controllato perché è una topologia un po' complessa gli dico questo è il master questi sono gli slave che devi considerare così stiamo tranquilli se c'è un problema sul master fai da solo gira su uno degli slave e leggi e leggi lo nuovo master se ce ne sono tanti metti a posto la topologia in modo tale che tutti puntino quello nuovo riga di comando failover starting e mi dà tutto monitorato pronto a essere utilizzato per la mia HA sufficiente? lo spero in questo caso però ho un utility non confondiamo non è una soluzione completa di alta disponibilità perché l'applicazione come si collega al database qui faccio solo switch over master slave ho bisogno di un router piuttosto che un virtual IP ho bisogno una soluzione di HA è qualcosa di più da uno switch tra master e slave ma è già un entry level è già un qualcosa di più automatico aggiungiamo un paio di particolari ci sono numerose utility anche di MySQL una ne parlerò nella presentazione di stasera che mi aiutano in questo ma il SQL Replicate fa anche una cosa molto interessante quando trova il fail order master può eseguire uno script esterno pensate alla flessibilità di nuovo sono con un audience di sviluppatori vi preparate uno script aggiuntivo che gestisce un virtual IP piuttosto che uno switch applicativo piuttosto che esegue dei comandi quando il database è costretto a girare controllato dall'outilities non c'è soltanto un discorso di replica esistono anche delle utilities che mi vanno a fare il confronto dei database ne ho due che siano in replica o non siano in replica non mi interessa voglio vedere se sono allineati perché ne ho uno in sviluppo ne ho uno in test quello di test è allineato con la produzione fammi il controllo la cosa interessante è che può mostrare anche le informazioni di come trasformare l'uno nell'altro quindi può dirmi attenzione ci sono delle tabelle diverse ci sono delle righe diverse ho trovato una riga è questa qua piuttosto che andarmi a dire guarda sono diversi ma update update delete questa serie di comandi ti permettono di riallinearli di averli di nuovo allo stesso livello a livello di informazioni non sempre facile recuperare le informazioni di MySQL quanto è lo spazio usato dal database MySQL Disk Usage mi dà le mie tabelle piuttosto che andare a vedere lo slow query log l'error log il general log eccetera eccetera visualizzato di nuovo in maniera grafica interessantissimo anche perché come avete visto è tutto testuale quindi molto semplice farne il parsing aggiungo un altro particolare poco per volta aggiungiamo vari elementi la visualizzazione può essere tabellare può essere tramite CSV può essere verticale e quindi molto semplice anche da intercettare eventualmente manipolare o prendere decisioni sulla base di quello che è l'output finale molto bello carino ma se voglio stenderlo la cosa interessante dell'utilities una delle tante cose perché come vedete ci sarebbe da parlare tanto non le ho viste tutte ovviamente ma ve le lascio controllare è il fatto che sono scritte in Python e sono scritte in maniera modulare quindi sono ben identificabili i moduli le funzioni la libreria di utilizzo di tutto quello che avete visto loro stesse utilizzano questa libreria con funzionalità di controllo degli utenti controllo del database allineamento gestione delle repliche e quant'altro il che significa che andate sul documento di esempio e vi mostra come andare a scrivervi la vostra utilities o come sfruttare le utilities per andare a caricare il modulo di parsing delle connessioni e fa lui la verifica che la connessione sia giusta che avete messo dentro i parametri giusti eccetera vi potete caricare l'utilities per esempio di Bicopy che vi fa la copia da un database a un altro un esempio voglio replicare completamente un database ho bisogno di verificare gli utenti e ricopiarli ho bisogno di ricreare la struttura ho bisogno di fare la copia del database ho bisogno di controllare che siano effettivamente allineati posso farmi uno script in shell o in bellissimo in batch in batch per andarli a comandare uno dietro l'altro oppure scrivere uno script python che mi intercetta queste funzioni le invoca controllo devo prendere i mattoncini e compilare e costruire quello che è il mio database molto interessante e performante ed efficiente soprattutto per chi conosce python perché sono scritti così non sono scritti in c++ java o altri linguaggi a livello di estendere mysql esiste poi un framework molto interessante chiamato mysql fabric mysql fabric è un framework che mi permette di andare a implementare funzioni a livello della mia applicazione legate all'alta disponibilità e a quello che è un'architettura in sharding spenderò un po' più di parole sull'alta disponibilità che sullo sharding legate al fatto che lo sharding mi serve quando ho degli ambienti veramente grandi quando devo gestire una quantità di dati enorme però comunque parliamo di tutti e due il primo elemento come ti dicevo è un qualcosa che mi gestisce il master lo slave lo switchover e quant'altro in modo che l'applicazione possa gestirlo al meglio e controllato una soluzione non più un utility come prima il framework va a sfruttare diversi linguaggi permettetemi di dire una cosa carina tra questi linguaggi ok python è principe perché implementa tutte le funzioni tutte le caratteristiche il secondo linguaggio è java che permette di implementare tutte le funzioni tutte le caratteristiche gli altri qualcosina di nuovo una forte attenzione a questo linguaggio chiamato python non è una cenerentola nel mondo ma SQL tutt'altro tutt'altro l'utility che è stata rilasciata tre giorni fa va a sfruttare due linguaggi uno è javascript per il mondo web l'altro è python non c'è dentro java non c'è dentro c++ non c'è dentro c tre giorni fa nuova nuovissima MySQL document store python qua abbiamo un esempio di utilizzo l'applicazione sarà scritta in modo da interfacciarsi con fabric non con il database direttamente e va a recuperare la topologia per sapere qual è il master attivo in questo modo quando io ho un'architettura master con tanti slave ho un server primario che è il master ho un server secondario ho più server secondari che sono le repliche la replica è configurata gestita amministrata direttamente da fabric mi fa il failover mi fa addirittura lo switchover l'applicazione si collega a fabric devo fare manutenzione gli dico eleggimi il nuovo master questo slave l'applicazione non sa nulla si collega a fabric e ottiene l'informazione del nuovo master e da un punto di vista applicativo non devo modificare una riga dal punto di vista amministrativo è un comando l'interazione tra amministrazione e sviluppo diventa molto più semplificata che non dire all'amministratore guarda ogni volta che fai una modifica questo è il file di configurazione piuttosto che l'amministratore deve stare attento all'applicazione quando si modifica devo fare attenzione che il database sia allineato una marea di lavoro eseguito con un comando MySQL Fabric a livello di funzionamento una volta era dentro nelle MySQL Utilities adesso ha preso vita propria è MySQL Fabric creo dei gruppi di alta disponibilità aggiungo i miei server faccio la promozione gestisco la replica gestisco l'attività di manutenzione amministrativa un comando senza bisogno di conoscere tutta la complessità che sta dietro un comando per creare architetture topologiche di varia complessità non fa soltanto l'alta disponibilità mi permette di fare anche quello che è lo sharding non so quanti di voi conoscono lo sharding è utile quando ho dei grossissimi volumi di dati cioè vado a suddividere i miei record tra differenti server fisici quindi un server che mi gestisce i record da 10.000 a 20.000 e un server che gestisce da 20.000 a 40.000 sono numeri messi ovviamente come esempio poi starà alla vostra applicazione al vostro ambiente decidere come andare a metterli in essere con un'architettura che mi permette di gestire anche il failover con alta disponibilità con il master e lo slave a livello di controllo è basato con delle API di Python e mi permette di sfruttare un'architettura anche complessa con alta disponibilità sharding gruppi comuni e una riga di comando estremamente lineare pulita vado a spostare uno shard vado a esportarlo vado a crearne uno nuovo vado a manipolarlo a livello di codice a livello di codice dovrò dire alla connessione di non andare verso database ma di andare verso fabric per l'HA questo è sufficiente per lo sharding devo dargli anche la chiave di sharding su cui devo andare a lavorare dopodiché i comandi successivi sono normalissimi select e qui è una select normalissima nella connessione gli dico qual è la tabella con la chiave di sharding dopodiché lavoro normalmente a livello globale ho anche delle tabelle che possono essere non in sharding ma comuni a tutti a questo punto metto scope global e poi vado a fare tutte le operazioni che voglio di nuovo alt al table normalissimo basta che io abbia detto prima dove sto lavorando a livello di limitazioni non è ancora in alta di per se stesso non è completo nel senso che utilizza la replica asincrona non quella semisincrona ma direi che per quanto che è il suo scopo di utilizzo è una soluzione completa di alta disponibilità che gestisce tutti i casi lasciatemi dire negli ultimi minuti un paio di informazioni per quanto riguarda la parte di estensione commerciale tutto quello che vi ho detto tutto quello che avete visto è tutto community però quando sono in un ambiente di business ho bisogno di un qualcosa di più del semplice select replica e quant'altro cos'è questo qualcosa di più sono delle estensioni per esempio per andare ad aderire a quelli che sono i regolamenti di legge audit piuttosto che encryption è stato rilasciato da poco un modulo di transparent data encryption per MySQL la possibilità di avere l'autenticazione all'interno di un ambiente di active directory piuttosto che held up con l'esterno oppure strumenti di monitoraggio MySQL Monitor è uno strumento che mi dà le best practice mi permette di controllare le query voi che siete sviluppatori potete vedere come sono scritte come sono eseguite se sono al meglio come sono i piani di esecuzione in maniera automatica vi dà un controllo totale dell'applicazione strumenti di backup ottimizzati per quanto riguarda le tempistiche strumenti di sviluppo che vi permettono di controllare il mio database da un punto di vista grafico disegnare il diagramma entity relationship se devo fare un porting fare il reverse engineering di un database per avere il diagramma entity relationship che non avevo e che devo andare a mettere a disposizione aggiungo il supporto ovviamente che ha anche supporto consultativo per chi ha bisogno di qualcosa di più del ho un problema con il database mi va in crash devo andare a risolverlo piuttosto che ho scritto una query non è ottimizzata mi date una mano è una delle offerte che va oltre quello che è il semplice ho un problema se volete maggiori indicazioni ho messo qua dentro indicazioni dove scaricare le varie versioni anche la trial la documentazione delle utilities la documentazione ufficiale e quant'altro direi che il mio talk manager mi mi fa mi regalerà una caramella mentina perché sono stato pochi secondi pochi secondi cioè quanti hanno rispettato i tempi come me? no comment l'esperienza paga l'esperienza paga scusate se io mangio caramelle mentine ma vengo da influenza e mi ha fatto lo strascico di tosse e per non tossire mentre parlo tengo qualcosa in bocca mi scuso se è una cosa bruttissima lo so però l'effetto contrario altrimenti è una tragedia domande? posso dargli il mio spillo? lo spillo è questo microfono qua che mi fa sentire tanto ambrangioini però qua bisogna essere vecchi per ricordare ambrangioini comunque vi ricordo che abbiamo il banchettino qui davanti e quindi se avete altre domande particolari che siano sulle utilities che siano sulle varie versioni database su funzionalità siamo qui poi tanto che loro organizzano riempio il tempo nella presentazione di stasera che farò purtroppo in un orario non eccezionale perché è alle sei mi sembra sei un quarto sì sì scusa una domanda se comincio che loro dicono la cosa la ripeto esatto esatto facciamo così così riusciamo sì viene restituito un errore perché nel momento in cui tu vai a fare l'impostazione fatto salvo che l'applicazione stia lavorando con buon senso quindi non mi sta lavorando con l'utente root che fa tutto cioè root non ha nessun limite comunque io abbia impostato database posso fare tutti i pastrugni che voglio ho un utente applicativo con le grant corrette ok gli slave sono in read only di conseguenza l'applicazione se sta facendo delle letture non è un problema perché lo slave è allineato e quindi vado a leggere è una delle tipiche architetture di scalabilità le letture sugli slave le scritture sui master deve fare una scrittura sta scrivendo sullo slave che è in read only con queste utilities è in read only eccezione intercetto l'eccezione e mi comporto di conseguenza assolutamente col di bottiglia non so se avete sentito tutti esatto devo fare un controllo dell'io del disco e quindi le performance di io cosa ho a disposizione allora come utilities abbiamo un controllo di quello che è lo spazio utilizzato come strumenti avete a disposizione tre cose la prima è il performance schema il performance schema è stato introdotto nella versione scusate nella versione 5.5 5.6 esteso 5.7 ancora di più e vi permette di avere il controllo di tutti i file in uso quali sono quelli più usati quelli meno quanti byte movimentano ogni singolo aspetto però è complesso perché? perché ha dentro una marea di roba secondo strumento molto interessante lo schema sys chiamato anche psl perché nella 5.7 si è dimostrato così utile da essere presente di default che ha una serie di funzioni e di viste già pronte per essere invocate e darti proprio questo tipo di informazioni schema sys savona y savona anche questo documentatissimo chiami la funzione e ti dà il risultato terzo strumento ovviamente lasciatemelo dire perché è quello più completo che mi dà tutto c'è poi anche la versione commerciale con il monitor che mi permette di avere anche visualizzazioni grafiche controllo degli storici incrociare le query con i file più utilizzati eccetera eccetera questi sono gli strumenti a disposizione oh mi spiace grazie a voi grazie a voi